Anna Scani, vice ministro della pubblica istruzione, ha fatto tappa a Teramo nel corso della sua visita istituzionale in Abruzzo. Il tema affrontato è quello dell'edilizia scolastica, una vera emergenza nei territori del cratere sismico. Poche le scuole ricostruite, molte al contrario quelle senza indici di sicurezza sismica. Tanti però i soldi in cantiere, pronti circa 200 milioni di euro. Oggi sono qui per ribadire la volontà del Ministero di mettere a disposizione le risorse che sono necessarie perché le scuole siano messe in sicurezza, siano in condizione di essere scuole sicure e anche belle e adatte all'apprendimento dei nostri bambini e ragazzi. I fondi che già sono stati stanziati per questa regione sono 170 milioni. Ci sono fondi che riguardano la provincia di Teramo, ci sono fondi per le scuole di questo territorio. Naturalmente noi abbiamo messo a disposizione della regione, sulla tabella triennale della regione, altre risorse. Stanzieremo altri 320 milioni a febbraio. Stiamo cercando di sbloccare risorse importanti per le province. C'è un emendamento in ballo che la Commissione Bilancio e Prima dovrebbe votare proprio oggi pomeriggio per mettere a disposizione circa 800 milioni sui fondi che riguardano le scuole superiori e quindi le province. Perché questa lentezza? La lentezza è dovuta a tante ragioni. La prima è sicuramente burocratica. Verranno sostanzialmente raddoppiati gli esperti che sono a disposizione sul territorio e al Ministero per fare più in fretta e superare i cavilli burocratici che spesso impediscono di trasformare le risorse in edifici. L'instabilità politica nazionale non ha certamente aiutato la ricostruzione nel centro Italia. Come uscire ora da questo impasse? Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, torna a chiedere semplificazione. Quello che noi chiediamo, abbiamo già chiesto al Governo e attraverso Anna lo chiederemo ancora perché possa diventare veramente un tema di Governo, è la semplificazione della ricostruzione pubblica e dentro la ricostruzione pubblica la ricostruzione scolastica. Dopo la visita in comune a Teramo, la Vice Ministro Ascani ha incontrato nell'aula magna del Convitto Delfico presidi e operatori scolastici del territorio. E poi ripartita alla volta di Civitella del Tronto per visitare l'Istituto Comprensivo Gasbarrini, uno dei pochi esempi di ristrutturazione post-sisma in provincia.